E alla fine Cremona ce l'ha fatta, è incredibile, una partita storica direi perché è riuscita a recuperare prima da uno svantaggio di 18 punti, poi di 17, alla fine ha tenuto i nervi saldi, a due minuti dalla fine ha fatto il sorpasso con una tripla veramente pesante, pesantissima di David Conno e da lì poi è riuscita a tenere salda la barra e soprattutto Breccia ha un po' calato le sue percentuali al tiro e è arrivata una vittoria. L'81-85 è davvero bella, meritata e in un derby che tiene aperto la porta per la Coppa Italia ma questa è secondaria ma soprattutto la lontana dalla zona bassissima della classifica in uno sconto diretto. Una prestazione direi ottima soprattutto di TJ Williams nel secondo tempo, di Holmes che è stato tra i più positivi ma sicuramente il successo è passato dalle mani di Cornu stasera o Quonu che stasera è stato veramente eccezionale nei momenti caldi della partita. Da Brescia è tutto, domenica si torna in campo contro la Armai Milano.